Io sono Lucia e anni fa ho avuto un intervento al seno e mi ha creato un po' di problemi, specialmente alla spalla e al braccio. Che cosa tu hai avuto? Io sono stata operata per un tumore del seno. Ho fatto anche in terapia e anni fa è andato tutto bene però mi ha lasciato qualche problemino alla spalla con l'operazione e al braccio destro. Ho provato questa cosa con il perfilio sonoro e subito ho sentito proprio questa parte che sono stata operata che era completamente trottata da spalla tutta la parte testa. Poi dopo ho fatto l'apasone e il trattamento ho sentito che il ritornato a fare il respiro e i suoni. Ho sentito che la parte si è rilassata, si è ammobilita e mi sono sentita distendere la schiena, rilassare la schiena. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.